Bella a tutti ragazzi, qui è il vostro Xcogna che vi parla ed oggi andrò a rispondere a una domanda che mi viene fatta molto frequentemente e che penso sia veramente vitale all'interno di questo settore. Scogna, come fai a trovare dei progetti di successo? Questa è una domanda molto importante e molto intelligente che andremo ad analizzare all'interno di questo video, quindi vi consiglio di guardarlo tutto perché vi lascerò le tecniche che utilizzo io realmente per fare ricerca dei progetti dove investire, che poi non sono un consulente finanziario quindi vi spiego solo i miei modi, ognuno ai suoi applicate quelli che credete più validi. Come al solito prima di iniziare però vi ricordo, pollicione in alto, iscrizione al canale, campanella attiva per non perdervi i prossimi video e rimanere aggiornati. Intanto vi dico e condivido con voi questa informazione perché essendo comunque una nicchia piccola, quella italiana, all'interno del Play to Earn non è che se svelo questo mio modo di fare allora io non ci guadagno più, anzi probabilmente con altre persone con cui confrontarmi vengono fuori più progetti, più persone che analizzano e quindi più possibilità di successo, quindi penso che il bello di questa community piccola in un mondo così ampio come quello delle criptovalute sia interessante perché appunto può essere di aiuto e possiamo esserci d'aiuto tra di noi soprattutto. Invece magari in altri settori se dico la mia strategia a qualcun altro c'è il rischio che lui me la rubi e che poi io non ci guadagno più. Quindi il punto principale che colpisce pienamente nell'orgoglio delle persone è che ragazzi nel momento in cui vi vengono presentati dei progetti di successo da influencer è già troppo tardi. Quindi noi dobbiamo essere capaci di trovare i progetti quando hanno mille utenti su Discord, quando ne hanno 5.000, non quando ne hanno 100.000, che è facile. Che li trovi in qualsiasi blog in giro su internet. Bisogna essere capaci di trovare delle piccole gemme nascoste secondo alcuni parametri che condividerò con voi quest'oggi ma assolutamente per me è questo fondamentale. Riuscire ad entrare prima della massa globale affinché il profitto è quello importante. Altrimenti se si entra in un progetto già avviato non vuol dire che assolutamente non si faccia profitto però come si fa profitto si può fare anche perdita. In un progetto di successo in cui si entra all'inizio è veramente tanto difficile andare in perdita. Poi come al solito non sono un consulente finanziario, ognuno fa delle scelte a proprio rischio e pericolo assolutamente però per me è importante comunque comunicare come la penso io. E vi spiego, io da poco ho aperto una pagina Instagram che si chiama Crypto Gaming Italia dove parlerò del Crypto Gaming, proverò ad arrivare a pubblicare un post al giorno su questa nicchia vi lascio il link in descrizione. Pubblico qui su YouTube video istruttivi ma il punto ragazzi è che il settore Crypto Gaming è tutto su Twitter. Instagram è l'1%, YouTube è il 5% ma la grande parte della torta la prende tutta Twitter e adesso andiamo a vedere perché. Tutti gli influencer più importanti, tutti i progetti Crypto Playtorn utilizzano Twitter come piattaforma principale delle volte Instagram neanche ce l'hanno, quindi tutta l'utenza è esattamente su Twitter. Vi lascio il link in descrizione anche del mio canale Telegram perché inizierò a pubblicare tantissimo ogni giorno sono tweet importanti, progetti interessanti, se volete essere sempre di più aggiornati vi consiglio assolutamente di seguirmi. Comunque Twitter va imparato, se si vuole entrare in questo settore va imparato. Io ragazzi non sapevo utilizzare minimamente Twitter, non ce l'avevo, l'ho creato da zero perché è il social più importante. Le aziende crypto, i progetti crypto tra i requisiti ti chiedono ma che profilo Twitter hai? Lo hai bello coltivato perché è importantissimo e di conseguenza io inizierò ad operare su Twitter. Anche perché all'inizio anch'io da inesperto cercavo i progetti, vi faccio vedere su che siti. Ecco qua, i migliori Playtorn del 2022 che sono interessanti per avere uno spunto, un confronto. Ma è già troppo tardi quando vengono pubblicate in queste guide. Dobbiamo essere noi quelli che scoprono queste piccole gemme, che vediamo il potenziale di questo progetto che da mille andrà a centomila. E provare a prendere una whitelist quando è a mille invece che a centomila, capite voi che è molto più semplice. Arriviamo al punto, vi faccio vedere, penso sia davvero super valido questo consiglio. Vi faccio vedere quello che io cerco personalmente su Twitter. Sono due hashtag, uno è Playtorn, l'altro è Gamify, all'interno del quale scorrendo ci sono tutti i progetti che taggano questa cosa. Vediamo ad esempio questo. Io non ho idea di chi siano, però li andiamo a vedere e già 38.000 follower e non 150.000. Poi faremo le nostre valutazioni, andremo a vedere se ci piace o meno, però già lo scopriamo da noi, cercando tramite degli hashtag. Ad esempio, scorrendo ancora di più, ne troviamo un altro. Vedete? 10.000 follower. E già può essere un momento buono per entrare. Ci si studia il Discord, ci si studia il Telegram, ci si studia un po' il profilo. Questo a primo impatto sembra fare un po' schifetto, però si fa questa analisi. Si vede se qualcuno ci ha investito. Quindi questo vale per Gamify e per Playtorn. Playtorn, vediamo, stessa cosa vale di qua. Questo è già un progetto grosso, però ancora ha 24.000 follower, quindi ne può valer la pena. Questo è un altro progetto, sinceramente non mi sembra bellissimo a primo impatto. Interazioni basse, grafiche scadenti, però vedete? Già in 30 secondi se ne trovano tantissimi. Cosa che invece a cercare i blog, a cercare i video su YouTube, rischia di essere troppo tardi. Tranne per quelli di Xcogna, che invece vale la pena guardarli assolutamente. Perché io provo a darveli perlomeno il prima possibile. O comunque a spiegare in che modo analizzo un progetto. Ma un'altra cosa super, per me, intelligente e interessante è, prima di tutto, seguire queste pagine che si chiamano Crypto Fundraising. Ovvero tutte quelle pagine di news che dicono gli investimenti. Ad esempio, quando noi andiamo a cercare tra i progetti, questo VBA Game ha ancora 3.600 follower. Ed è un basket manager game. E ha raccolto 6 milioni da queste aziende. Ora, a parte Solana, le altre non le conosco, sinceramente. Però ci sono alcuni progetti, come vi vorrei far vedere. Questo qui, Animoca Brands, che mi piace tantissimo, ha investito su questo progetto di NFT. Quindi lo andiamo a vedere e lo andiamo a scoprire. E lo scopriamo noi quando ha 21k follower. Quando ne avrà 210 sarà già troppo tardi, probabilmente. Vedete, il famoso Mavia, qui è arrivato molto in ritardo 22 febbraio. Però Crypto.com, Merit Circle, GuildFi, IGC e Avocado Guild. Devastanti questi partner, motivo per cui io sto investendo in Mavia. Però questo è un modo, quindi cercare queste tipologie di pagine. Altro modo che mi piace molto, invece, è cercare direttamente le aziende che mi piacciono particolarmente. E in questo caso andare a cercare tra i mi piace. Vedo quello a cui mettono mi piace queste aziende. Quindi questo progetto è molto interessante. Avevo provato a contattarli, non mi hanno calcolato. Rev Racing è già abbastanza famoso, vedete, 110k. Non attrae troppo la mia attenzione perché vorrei cose nuove. La stessa cosa la faccio anche con Merit Circle, quindi like. Assolutamente seguirli su Twitter, potenzialmente con la campanella attiva, così siete i primi a sapere le novità. E anche Xcogna su Twitter seguitelo con la campanella, mi raccomando. E vedete tutte queste cose interessanti, tipo Ascenders, ragazzi, è un progetto di cui io assolutamente vi parlerò in questo canale. Perché è devastante. AAA, grafiche, cioè si commenta da solo. E come l'ho scoperto? L'ho scoperto che aveva 1000 follower, 3000 follower aveva. Il Discord è ancora chiuso. Questo è il momento di scoprire progetti così. Essere prima degli altri a scoprirli. Provare a prendere la whitelist ora, non quando avrà 130.000 follower. Guardate la qualità delle immagini, delle animazioni. Ma stiamo scherzando. Ma questo sembra un gioco non su blockchain. Sembra un gioco normale. Questo ti viene voglia di giocarlo. E così succederà con tantissimi giocatori. Quindi andremo a vedere tra qualche mese che Ascenders darà 90 tweet, arriverà 900 tweet. E da 13k arriverà 130k, uso ridere. E questo uscirà nel 2023, quindi ve ne parlerò comunque il prima possibile. Un altro modo è proprio andare sui siti di queste aziende. E in questo caso hanno la parte dei giochi. Sono andato a vedere tutti questi uno per uno, ovviamente, tra cui anche Mavia. E si controllano quelli in arrivo, come vedete qua, che sono ancora nelle fasi iniziali. Deve essere fatta così. A mio parere, la ricerca. Ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, perché davvero a me personalmente è cambiato tutto il mondo nel momento in cui ho iniziato a fare le ricerche così e non quando erano già cantati ai 4-20 i progetti. Bisogna arrivare prima degli altri per fare grosse somme di denaro. Mi raccomando, seguitemi su Twitter perché pubblicherò costantemente ogni giorno. Voglio far crescere questo profilo davvero tanto. Impariamo l'inglese. Utilizziamo Twitter perché è il futuro dei Crypto Games. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fino a qui di cuore. Mi raccomando, mi piace, iscrizione, campanella per non perdervi i prossimi progetti per supportare questo canale di Crypto Gaming. Noi ci rivediamo al prossimo video. Mi raccomando, date un occhio alla descrizione e io non posso fare altro che salutarvi. Un saluto a tutti. Ciao! Ciao!